La cultura egizia è fiorente e la popolazione è in crescita. Per provvedere all'amministrazione del regno e per servire gli dèi, sono state istituite nuove professioni. Gli scribi e i sacerdoti sono le figure che aiutano il faraone nel mantenere i rapporti con i militari, il popolo e gli dèi. Questi nuovi specialisti hanno acquisito rapidamente rilievo e sono di vitale importanza per la civiltà egizia. Al nord, a ovest del delta del Nilo, gli esploratori segnalano l'avvicinamento dei predoni libici a una delle città più sacre d'Egitto, Eliopoli, costruita in onore del Dio del Sole, Ra. In qualità di sacerdote lettore del principale tempio della città e scriva dell'esercito del faraone, ti viene ordinato di fermare questi predoni ad ogni costo. I sacerdoti della città hanno offerto i loro servigi per sostenere l'esercito. Tuttavia bisogna temere i libici, i quali portano con sé una macchina d'assedio in grado di demolire le mura della città. Questa macchina potrebbe essere utile per il nostro esercito. E così, anziché distruggerla, il faraone ti ha ordinato di catturare questa catapulta leggera e portarla al centro città di Eliopoli. La cultura egizia è fiorente e la popolazione è in crescita. Per provvedere all'amministrazione del regno e per servire gli dèi, sono state istituite nuove professioni. Gli scribi e i sacerdoti sono le figure che aiutano il faraone nel mantenere dell'amministrazione del regno di modificazione. Gli scrivono i nostri spessi, i nostri spessi e i nostri spessi, i nostri spessi e le Sto, molto. I nostri spessi. I nostri spessi, i nostri spessi, i nostri spessi, i nostri spessi, i nostri spessi. possiamo cantare queste le mettiamo qua gli altri due le mandiamo fuori alla massa dobbiamo potenziare il prete dobbiamo fare i frombolieri frombolieri e preti frombolieri e preti frombolieri e frombolieri e preti dobbiamo fare pietra pietra frombolieri e poi ne mandiamo due questo frombolieri e preti frombolieri e preti frombolieri e preti e poi Poi facciamo i bombolieri. 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 Ed è insufficiente. Poi facciamo i bombolieri. 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 Oh partita vinta vaffanculo. Hai salvato Eliopoli dai predoni libici e gli dèi sono felici. Il faraone ti è grato e ha promesso di finanziare la creazione di una statua con il tuo volto. È un onore che di solito non viene conferito a nessuno. Se non il faraone stesso. Ok.